subito dopo ero come eravamo un po' tutti che abbiamo visto entrare quella palla bisogna dire che loro sapevamo anche che hanno giocatori con molta qualità davanti poi però è venuto fuori una grande partita da parte dei ragazzi era una partita non semplice da giocare perché poi avevamo invertito un po' il vertice vaso quello che avete visto il giovedì e penso che che l'hanno interpretata molto bene gli esterni perché loro cercavano tutte le volte di imbucare questa palla e lì secondo me poteva diventare molto più difficile poi secondo me hanno fatto una un'ottima partita ma nel complesso bisogna far gol non possiamo pensare di andare avanti con il gol solo di di nestorowski questo è un po quello che che bisogna migliorare perché l'ho detto anche dopo la partita del napoli che noi bisognava migliorare in fase di di possesso penso che questo si sta facendo però bisogna far gol che poi abbiamo avuto le palle abbiamo messo nelle condizioni ai nostri attaccanti di far gol quindi io dico che non bisogna pensare solo il nestorowski